Si è conclusa l'operazione Mare Sicuro 2023, attività che da oltre 30 anni durante la stagione estiva vede impiegnati sul territorio nazionale 3.000 donne e uomini della Guardia Costiera, oltre 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei per presidare gli oltre 8.000 km di costa del nostro paese, pronti a intervenire in caso di emergenze per la sicurezza in mare di bagnanti e di portisti e vigilare sul regolare svolgimento delle attività ricreative, commerciali e a tutela dell'ecosistema marino. La Direzione Marittima di Pescara in particolare ha svolto circa 15.500 controlli, per lo più presso stabilimenti balneari e sul demanio marittimo. Le attività di monitoraggio e controllo hanno portato a 17 notizie di reato, 349 verbali di accertamento di infrazione e il sequestro di 534 attrezzature da pesca, oltre alla restituzione di circa 9.959 m2 di spiaggia alla libera fruizione. 40 sono stati gli interventi SAR, Search and Rescue, a favore di 24 unità e 77 persone soccorse, per lo più bagnanti e di portisti. La costante capillare presenza del personale lungolitorale di giurisdizione, quale presidio quotidiano per la sicurezza della vita umana in mare, dell'ambiente marino e costiero e del patrimonio naturale sommerso, confermano ancora più la vicinanza delle captenerie di porto, guardia costiera, all'utenza e l'attenzione verso le attività che si svolgono in mare e lungo la costa.